Un piccolo gesto che, se compiuto da moltitudini, può fare la differenza. È questo il messaggio scelto da Coop per raccontarsi in un film che è il sapore di un ritorno alle origini. La nuova campagna identitaria dal titolo Insieme, firmata dall'agenzia creativa I'm Not A Robot, on air dal 16 aprile sulle principali reti televisive, punta sulla partecipazione. Io penso che Coop ha sempre cercato di essere un po' anche nei messaggi, nel modo di comunicare, un po' particolare avanti. Siamo partiti con Gregoretti, con il Tenente Colombo, con Vudi Allen, con la DTZ per arrivare alla campagna sulla buona spesa che può cambiare il mondo. Oggi noi facciamo un ulteriore salto con questa campagna. È una campagna di comunicazione ma è soprattutto il completamento di una strategia che abbiamo iniziato tre anni e mezzo fa con una buona spesa può cambiare il mondo che era una collection, un invito alle persone a scegliere delle cose importanti per sé ma anche importanti per le comunità, per l'ambiente, per la società. Questa campagna Insieme è il racconto della natura di Coop. Noi siamo una bestia un po' strana, siamo sì un'impresa di distribuzione, anche di produzione di prodotti, ma anche un movimento di persone, di consumatori. Chi ha la tessera Coop non ha una carta fedeltà, è molto di più, è una tessera di proprietà della Coop. La Coop è di quei sei milioni e mezzo di famiglie che hanno la tessera Coop e quindi si possono partecipare a molte attività che facciamo e anche alla governance delle nostre cooperative. Possono decidere ciò che si viene fatto in cooperativa. Certo, è un sistema complesso, democratico, ma questo è molto importante. I valori sono multiformi, quanto è multiforme la cooperazione di consumo, dalla volontà di contribuire allo sviluppo dei territori, di migliorare la qualità della vita delle persone, da difendere i poteri d'acquisto delle persone, quanto mai a rischio nei momenti di crisi come è quello che stiamo vivendo, ma senza dimenticarsi mai che non possiamo pensare solo all'oggi, ma tutti insieme dobbiamo pensare al domani. A metà dell'opera, la rivoluzione sullo scaffale, lanciata un anno fa per rinnovare l'offerta del prodotto a marchio a difesa del potere d'acquisto delle famiglie. La scelta, assunta durante proprio la pandemia, di investire molto di più di quanto avevamo già fatto in quantità rilevante su prodotto a marchio, deriva dalla necessità di mettere a disposizione delle famiglie dei prodotti con contenuti valoriali importanti, sicurezza, sostenibilità e rispetto per i lavoratori, a un prezzo giusto, perché in COP siamo fortemente convinti che l'attenzione all'ambiente, al futuro e ai diritti non debba essere appannaggio solo di chi può spendere, ma sia necessario delinarla in una maniera tale, con un prezzo accessibile anche per chi ha maggiori problemi di reddito. Tra i nostri valori fondanti c'è quello di difendere le persone, difenderle come singole persone, quindi difendere il loro potere d'acquisto, ma al tempo stesso anche di fare qualcosa per fare migliore il mercato, la società. E quindi i nostri valori sono connessi a questa fase. Noi per esempio siamo molto convinti che in questo momento sia importantissimo offrire un cibo buono, sicuro, accessibile, accessibile a tutti, è quella a tutti che fa la differenza. C'è metà ormai purtroppo delle famiglie italiane che ha difficoltà economiche. Questa crisi, anche l'inflazione, è un'inflazione, diciamo così, recessiva e negativa, che va contro soprattutto la parte più debole, allora bisogna aiutare la parte più debole, senza però rinunciare a quella qualità fondamentale, non bisogna standardizzare verso il basso i nostri consumi.